Le dichiarazioni dell'inviato al Cairo di Obama, Frank Wisner, su una transizione guidata da Mubarak diventano un caso all'interno della diplomazia statunitense. La delegazione del segretario di Stato americano Hillary Clinton alla conferenza sulla sicurezza a Monaco di Baviera si è affrettata a prendere le distanze. Queste le parole incriminate. Il presidente deve stare al suo posto per guidare questi cambiamenti. Per questo credo sia fondamentale che Mubarak vada avanti. Parla a titolo personale, da analista, non come rappresentante del governo americano, afferma lo staff della Clinton. Sospiro di sollievo per i manifestanti di piazza Tahrir. Gli oppositori del Rais avevano visto in Barack Obama, che ha invitato ripetutamente il presidente egiziano ad ascoltare il suo popolo, un alleato fondamentale.